Bella ragazzi bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video oggi ragazzi Juventus, Chelsea, Champions League Michela porterà fortuna, l'ultima volta abbiamo pareggiato ma non ci dispiace 1-1 oggi l'importante è non perdere tra poco entriamo allo stadium speriamo di portare fortuna ovviamente ringraziamo Adidas, link in descrizione e forza Juve, sempre prima di partire con il video vi voglio parlare di queste nuovissime cards di Match Attacks collezione UEFA in particolare sono trading cards ragazzi la collezione include da quest'anno UEFA Champions League, UEFA Europa League e Conference League ogni pacchetto contiene 12 cards che potete trovare in edicola, supermercati e sul sito tops.com la cosa bella è che queste cards si possono collezionare ragazzi quindi tanta roba vi faccio vedere tipo Alisson ragazzi guardate che bellissima carta tra l'altro ci sono i punti sopra che voi potete sfidare i vostri amici quindi collezionando le carte poi potete anche sfidare i vostri amici potete anche scambiarvi le carte tra di voi io direi subito di andarli a spacchettare vediamo un po' cosa troviamo da questi bellissimi pacchetti olè questo bellissima sta carta guardate qua raga Champions League veramente molto bella uh ansufati bellissima raga veramente veramente top carta Europa League veretù 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 sono io difesa 78 e attacco 65 di veretù veramente tanta roba e guardate un po' chi ho trovato Mauro Icardi ricordate se tuo amore torna tardi vabbè continuate la frase nei commenti ed è possibile acquistare il multipack dove all'interno troverete 30 cards c'è anche il booster box con all'interno 30 carte di cui una è limitata oro ragazzi quindi mi raccomando non fatelo scappare c'è anche il mini team che contiene 36 carte di cui una limited edition oro ecco qua una cards rossa guardate che tanto è bella Jamie Wardy con 61 di difesa e 94 d'attacco tanta tanta roba ci sono queste cards davvero speciali c'è anche Frank Cassi del Milan con 79 di difesa e 71 d'attacco queste cards sono tanta tanta roba inoltre ragazzi con l'hashtag inizialasfida sui social potrete condividere tutte le vostre cards con i vostri amici e non solo quindi mi raccomando raga iniziate la sfida anche voi spacchettando come animali ovviamente taggatemi su Instagram quando trovate le carte super mega rare mi raccomando e nulla raga vi lascio tutte le info in descrizione mi raccomando passateci detto questo torniamo al video ragazzuoli abbiamo superato i tornelli siamo entrati siamo entrati adesso però prima di entrare dentro lo stadio effettivamente andiamo a mangiare eh oh eh ci sta abbiamo fame si ragazzuoli momento della cena Michi si mangia? si mangia ah finalmente mangiamo una bella lasagna oh Bolognesi eh cosa ne pensate di questa lasagna? non mi interessa basta che mangiamo andiamo allo stadio e vinciamo Michela abbiamo mangiato e quindi si entra allo stadio? speriamo bene dai Michi porta fortuna con la maglia di Cristiano anche se non c'è più però vabbè dai entriamo si sta a tempo è con noi stasera speriamo ragazzi si entra allo stadio riprendo Michela che è andata più bella di me si entra la nostra curva è l'emozione della Champions eccoci qua siamo arrivati allo stadio entra il Chelsea fischi per loro eccoli là ovviamente li temiamo ma ragazzi noi siamo la Juve a Juve eccolo Federico Chiesa ole 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 Juve Juve ragazzi oggi sono stravicino qua con Carlone qua speriamo che porta bene Carlo fa tutta la Juve che si allena Federico Chiesa oggi dovrà dare il 101% ragazzi ma sono sicuro che lo farà ragazzi chi siamo chi siamo adesso le formazioni del Chelsea pubblichiamo le formazioni delle squadre Chelsea bravo Luca vediamo vediamo i fischi eccolo si teme Luca si teme però Chiellini lo fermerà sono sicuro eccoci la bellezza dello stadio ragazzi ma quanto è bello lo stadio quanto è bello lo stadio guardate guardate oh madonna Asia Asia Juventus allenatore Massimiliano Allegri con il numero 1 Voicet Sessi numero 4 Matais Pelic numero 6 Da Silva Danilo numero 14 Guernet Quadrado vai Panita numero 12 Alex Sandro numero 19 Leonardo Marucci numero 20 Federico Bernardeschi dai Berna numero 22 Federico Chiesa vai Fede numero 25 Adrienne Rabio numero 27 Papelle Lacatelli numero 20 Rodrigo Bentancur speriamo bene Bentancur a disposizione dai ragazzi dai stiamo una curva in festa come un abbraccio noi che ancora non ci batta Juve storia di grande amore di algo che abbraccia il nero un coro che si alza davvero oh madonna i primidi sentiamo eccolo là ci siamo tutto pronto che qui ti la che è la è l'amore è E' un po' bello Lukaku E' un po' bello Forza ragazzi Dai ragazzi dai dai E si parte Mamma mia Svella Vai Berna No fuorigioco Basso Oh madonna Madonna Vai Fede No Basta Era da solo Fede comunque ragazzi abbiamo capito che la Juve oggi sfrutta solo le ripartenze ragazzi finisce qua primo tempo 0 a 0 però la Juve sta rischiando, possesso parla del Cerci però siamo andati vicino al gol, continuiamo così va bene rientrano le squadre in campo per il secondo tempo per ora ancora 0 a 0 ovviamente però ho visto la Juve concentrata dai 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 la chiesa al centro del villaggio per il secondo tempo e si comincia chiesa 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 la chiesa al centro del villaggio grande chiesa grande chiesa ragazzi Timo Werner qua sotto che si allena la curva con Lukaku madonna che rischio nooo cosa ti sei mangiato? non ci credo mamma mia carischio ragazzi siamo stati fortunati mamma mia mamma mia ragazzi dovrebbe essere l'ultima azione questa ragazzi dovrebbe essere l'ultima azione questa ragazzi che si allena davvero grande ebran grande ebran grande ebran grande ebran grande ebran come un abbraccio ragazzi è stata dura ma ce l'abbiamo fatta che dita devo riportarla Michela sì o no? eh sì forte fortuna vai vai c'è uno a uno o uno a zero va bene così quindi ragazzi lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video bella ragazzi grazie